ciao amo dimmi ah così di punto in bianco ha deciso di lasciarmi motivazione non c'è una motivazione quindi uno si stufa così di punto in bianco contentate contenti tutti e mi faccio una nuova vita cosa devo fare pensi che sto a disperarmi mi sa che non hai capito proprio un cazzo guarda sono giovane la vita è lunga ci tenevo tanto a te ma se lo metti così cosa devo fare io piangermi addosso non fa per me sinceramente ciao ciao la vita è finita ah